Dunque ci troviamo in un appartamento a un piano alto nella residenziale via Byron. Allora entriamo, abbiamo questo ingresso, porta blindata. Subito ci troviamo in questo soggiorno dalle generose dimensioni, un'esposizione levante, quindi luminoso, dei begli infissi, ecco quella panoramica del soggiorno. Un bel parquet per terra, qua abbiamo un comodo balcone, ideale per un tavolino e due sedie. Questa è l'esposizione, molto gradevole. Qua procediamo, abbiamo una comoda dispensa per gli armadi, che non fa mai male in una casa. Un primo bagnetto di servizio. Abbiamo questa camera matrimoniale dal bellissimo parquet. Uscendo troviamo la cucina. E qua con una bella finestra grande, un'esposizione molto piacevole. Continuando abbiamo il bagno principale con una bellissima doccia. Questa va sull'esterno, la finestra. E proseguendo abbiamo l'altra camera matrimoniale. Adesso ci sono due grossi armadi e questa è l'esposizione di questa camera. tornando verso l'ingresso. E qua dove siamo partiti, ingresso soggiorno termina il nostro video. Grazie. Grazie. Grazie.